A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino risalente a venerdì sera, sono 5 i nuovi casi di positività certificati. Sono invece 4 le guarigioni registrate. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 86 attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Nel comune di Torre annunziata invece nelle ultime 72 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio a fronte di 219 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta allo 0,91%. Al contempo si registrano 10 guarigioni. Sono 31 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 49.852. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.614, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.238.